La sicurezza in ambito per il Natale, esperienza al confronto, è il titolo del convegno che si è svolto all'ospedale Manzoni di Lecco in Aula Magna e di cui sono stati i relatori tra gli altri anche Roberto Bellù e Paola Goretti che abbiamo intervistato in diretta. Ma noi abbiamo anche sentito il dottor Antonio Pellegrino su alcuni aspetti particolari della sicurezza per il Natale e non solo. Abbiamo parlato anche di Covid nelle gestanti, abbiamo parlato insomma di tante altre cose che riguardano la dimensione donna. Ecco, ascoltiamolo. Antonio Pellegrino, direttore dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Manzoni di Lecco. Lunedì è la giornata mondiale dei tumori ginecologici e Lecco farà un focus particolare, scusa. Sì, nell'ambito di un programma ormai che è data qualche anno con l'associazione Acto o Alleanza contro i tumori ovarici abbiamo pensato di organizzare un evento e a seguire un progetto che è finalizzato a migliorare la qualità di vita delle donne dopo guarigione del tumore ovarico. Ovvero questo nasce da questa osservazione che sempre di più le innovazioni tecnologiche e farmacologiche hanno migliorato l'intervallo libero di malattia fino alla guarigione di alcune pazienti e tuttavia la menopausa precoce condiziona la loro qualità di vita, in particolare a livello di alcuni tessuti che sono appunto i tessuti vaginali e comunque in linea generale si può dire la sfera sessuale. Abbiamo avviato questo progetto grazie a un device che ci viene dato, incomodato d'uso gratuitamente o perlomeno viene dato all'acto per un periodo di tempo limitato dove un operatore eseguirà queste sessioni di radiofrequenza a livello vaginale con il fine di migliorare la qualità di questi tessuti migliorando di conseguenza la sfera sessuale di queste donne. Una cosa di cui magari non si parlava tanto che invece si è scoperto adesso è una cosa molto importante anche per la prevenzione. Assolutamente sì, è vero, è un qualcosa che se ne sta parlando negli ultimi anni, si è parlato molto di laser terapia e ultimamente proprio della radiofrequenza. Ecco, le donne, abbiamo parlato di tumori ginecologici, parliamo di cose più o meno come il parto, la gravidanza. Comunque anche questo è un periodo molto delicato per una donna. oggi gli si chiede ai gestanti di vaccinarsi. Perché è sicuro? Perché una donna si dovrebbe fidare e venire a fare la vaccinazione anche se aspetta un bambino? È sicuro perché i dati raccolti in questi mesi da alcune società scientifiche e recentemente pubblicati hanno dimostrato come il vaccino a RNA, indipendentemente dall'epoca gestazionale che sia il primo, secondo o terzo trimestre, non ha interferenze con il nascitore. Al contrario, la malattia Covid, quindi la polmonite da Covid in gravidanza, ha altrettanto dimostrato le complicanze, le complicanze dalla gestosi al parto prematuro. Quindi la raccomandazione non può che essere, vaccinatevi. Il virus passa al bambino dentro il sacco amniotico? No, assolutamente no. Oltretutto il vaccino non viene somministrato il virus, ma viene somministrato l'RNA con il messaggio per produrre gli anticorpi e combattere il virus. Due volte sicuro? Assolutamente sì. Grazie a tutti.